test su piastra balistica livello 3a primo test con calibro 22 lr 10 metri primo test 10 metri calibro 22 non è passato secondo test 9x19 fmj secondo test 9x19 fmj non è passato terzo test con 357 magnum proveremo un altro colpo da 10 metri terzo colpo 357 sotto quello del 9x21 9x19 si è leggermente tagliata l'imbottitura però non è passato testiamo con calibro 12 tiro a palla diciamo che non è passata ovviamente non è progettata per il 12 a palla quindi il risultato era con il 9x19 con il 22 e con il 357 magnum facciamo vedere che il 12 è nel secondo e terzo strato ed è questo il 9 mm è nel secondo strato il 357 è nel terzo strato il 5 mm è nel terzo strato Grazie a tutti.